Buongiorno e benvenuti al mio canale Marzia Lab. Oggi vorrei analizzare con voi il match svoltersi a Las Vegas sabato scorso tra Cannonier e Vettori. Tutti sappiamo il risultato purtroppo e credo che ad oggi tutti si fanno la domanda. Ma Cannonier era alla portata di Vettori? Ovviamente sì, il reking non mentiva prima del match. Anche i bookmaker daranno fiducia al nostro Marvin nazionale. Quindi la domanda che vogliamo fare oggi è cosa è successo? Mi avviso semplicemente Cannonier si è reinventato in un fighter che non è. A 39 anni porta in gabbia un game plan con una pressione e un cardio pazzeschi. Fatto la sua miglior prestazione di sempre. Pensate, demoralizzerà già alla quarta ripresa i numeri di colpi nella categoria dei pesi medi per singolo match. Stiamo parlando di un fighter che nei match, prima delle statistiche di questo e di quello precedente, non è mai andato in tripla cifra. Tirerà quasi 90 colpi solamente nel secondo round. Sono più di quanti colpi avesse tirato negli altri match, non essendo mai andata in tripla cifra per colpi tirati per singolo match. La sconfitta con Adesanya e l'avanzare dell'età l'avranno messo davanti a un bivio e avrà deciso di reinventarsi per riprovare a riprendersi il titolo. Ora facciamoci una domanda. Marvin ha fatto delle cose buone? Ovviamente sì, è il primo round nella prova. Infatti analizziamo il primo round. Come consuetudine Marvin parte prima. Marvin ha sempre l'iniziativa dalla parte del suo. E Cannonier sembra impracciato e replicherà a specchio, si dice in gergo. Cioè replicherà ogni colpo tirato, lo stesso colpo che Marvin tirerà. Vettori metterà subito in chiaro e scoprirà subito le sue carte. Cioè sarà il suo diretto sinistro a decidere questo match. E infatti dopo 30 secondi dall'inizio del match Marvin sfiora il knockdown. Per chi non lo sapesse è quando un fighter va col culo per terra. Qui il primo appunto che possiamo sollevare. Perché clinciare e non rincorrerlo colpendo? Questa è un'arma che Marvin ha, il suo volume di colpi. Ma comunque Marvin porta a casa il round senza remore. Anche perché Cannonier fa un errore madornale. Siete riusciti a notarlo? Vuole affrontare Marvin nella guardia apposta a quello dove combatte di solito. Non si sperimenta col nostro Marvin. E dopo la prima scoppola lo capisce. E per limitare i danni cambierà subito guardia e tornerà nella sua consuettazione di partenza. Come potete vedere anche dal numero di colpi non c'è storia. Marvin porta sicuramente a casa il round e dimostra la sua superiorità nello striking. Ma passiamo al round 2. Come sempre Marvin forzerà l'iniziativa. E sono i suoi due primi due colpi. Ma Cannonier stavolta decide di aumentare esponenzialmente la scuola. Così costringendo Marvin a tattiche sbagliate. La prima di tutti è che Marvin si muoverà nel lato del colpo più forte di Cannonier. Normalmente questa è la prima cosa che ti insegnano nelle arti marziali. Quando combatti muoviti lontano dal colpo più forte dell'avversario. Questa disattenzione sarà fatale. Cannonier infatti appena si sincronizzerà con la diretto ormai diventato prevedibile di Marvin che porterà a casa l'azione più bella della serata. Il suo colpo migliore che fa gocci dal colpo migliore di Marvin. Questo è il classico K.O. della box. Notate Cannonier. Non cerca di clinciare. Cerca di capitalizzare subito la fase di difficoltà di Marvin. Marvin proverà in tutte le maniere a cercare di uscire da questa situazione. Andrà a terra contro la gambia. Scapperà. Ma Cannonier è implacabile. Non sbaglia niente. In clinci sfodera un ottimo grandem pound. Sia a terra che in piedi. Anche contro la gabbia. Costingerà Marvin a danni seri. Perché ovviamente il volume dei colpi presi è enorme. Da qui è inutile continuare a commentare il match. Saranno sempre su questa forza riga. Cannonier che imporrà la sua pressione e non lascerà spazio a Marvin nel fare il suo solito gioco. Ovviamente la resistenza e ormai i danni di Marvin sono ingenti. Anche l'angolo gli dirà gioca in difesa. Non attaccare più. Perché comunque ormai lo scopo è cercare di giocare di rimessa per portare a casa il match. Noi tutti ci abbiamo sperato. Purtroppo non è successo. E quindi con una delle disfatte più brutte di Marvin, purtroppo, dobbiamo fare i conti con la realtà. L'altro certe volte fa il match della vita e ci sta. Dobbiamo dare i meriti a Cannonier. Vediamo le statistiche di Marvin. Nonostante un match di pura sofferenza, riuscirà a portare oltre 300 colpi. È quasi il suo massimo per match tirato. Credetemi, in una situazione del genere portare un volume di colpi così alto è un ottimo risultato. Vuol dire che Marvin non rinuncia mai. È sempre sul pezzo. Anche quando un qualsiasi altro sarebbe sfiduciato o non riuscirebbe nemmeno a vederlo l'avversario. Comunque guardate che Vettori ha dalla sua sempre l'avanzare. Cosa che stavolta non ha fatto perché è stato Cannonier ad avanzare sempre come un carri armato. Guardate quanti colpi riesce a portare, quanto è riuscita a portare nella sua carriera. Per distacco è il migliore nella sua categoria. Perché ha una buona box, è molto agile. Quindi se un fighter arrivasse da me con queste statistiche gli direi subito che va bene. Cosa dobbiamo migliorare? Sicuramente la precisione dei colpi perché comunque questa volta la precisione di Marvin non era buona. E questo colpo è il sintomo maggiore. Guardate Cannonier non ha parato. Eppure Marvin non ha centrato il bersaglio. Questo non è buono per un fighter di quei livelli. Comunque dai, è inutile andare più in profondità. Ormai penso che avete capito i punti salienti di questo match e quali sono. Normalmente un'analisi approfondita richiede ore e ovviamente il suo team lo farà. Io ho voluto solo farvi notare le cose più salienti e principali. Solo ad alto livello, non andando nei dettagli azione per azione. Se questa analisi ti è piaciuta mi raccomando iscriviti al canale. Ciao!